Salve a tutti bentornati su Access Facile. In questo tutorial vedremo come inserire un indirizzo su una maschera partendo dalla selezione della provincia avendo automaticamente la possibilità di selezionare il paese in base alla provincia e in automatico apparirà il CAP. Vi faccio vedere cosa intendo per esempio selezionando la provincia di Bergamo vedete qui non ho più nulla ho la possibilità di selezionare il paese direttamente da una lista di paesi che afferiscono alla provincia di Bergamo per esempio Barzana in automatico mi comparirà il relativo CAP. Premesso c'è una tabella non indifferente dietro sia della lista dei comuni che delle province questa tabella l'ho già preparata io per voi può essere scaricata eccola qui sulla pagina di Access Facile.it di Peip vi lascerò il link in descrizione. Prima di iniziare il tutorial andate a scaricarvi questo file excel che vi servirà poi appunto come base per poter ovviamente creare creare questa tecnica di selezione. Bene iniziamo subito abbiamo un po di robe da fare non è lunghissimo non è nemmeno difficilissimo. Allora innanzitutto cominciamo importandoci le tabelle che abbiamo scaricato quindi andiamo su dati esterni nuova origine dati da file excel e andiamo a trovare dove abbiamo scaricato la nostra il nostro file excel quindi lista comuni apri la importiamo in una nuova tabella clicchiamo su ok vedete abbiamo tutti e due fogli di lavoro noi importiamo prima i comuni poi le province andiamo avanti gli diciamo che l'intestazione di colonna sono la prima riga ossia i campi il nome dei campi fondamentalmente poi abbiamo vedete è evidenziato la prima parte è un testo breve la seconda parte è sempre un testo breve non lo facciamo numerico perché altrimenti gli zero davanti verranno tolti e poi ci abbiamo lì di provincia che è una numerazione è un campo numerico scusate la chiave primaria viene aggiunta automaticamente andiamo avanti gli diamo il nostro nome lista comuni ti non facciamo analizzare i dati perché li portarei un sacco di tempo e clicchiamo su fine non salviamo nulla quindi in questo momento vedete abbiamo la nostra lista dei comuni con tutti i comuni come vedete sono 8092 record per qui veramente tanti cioè dovrebbero essere praticamente tutti e cosa andiamo a fare immediatamente andiamo a cambiare il nome dell'id non sarà più solo id ma id comune ok chiudiamo e salviamo dati esterni andiamo ad importarci le province andiamo di nuovo su sfoglia riportiamo lista comuni apriamo una nuova tabella ok questa volta andiamo a selezionare province vedete non c'è l'id ma essendo in ordine alfabetico ovviamente corrisponderanno a quelli che ho già inserito manualmente nella lista comuni andiamo avanti l'intestazione sempre nella prima riga andiamo avanti è un testo breve e vedete abbiamo qui l'id andiamo avanti la nostra tabella si chiamerà provincia t fine ok e chiudiamo quindi adesso abbiamo le nostre province con l'id provincia anche qui andiamo direttamente a cambiare id provincia ok adesso abbiamo le tabelle che ci servono per poter lavorare sulla nostra maschera andiamo a dare un attimo un'occhiata alla struttura della mia tabella clienti ora faccio un inciso se state lavorando su una tabella ex novo allora vedete io qui ho il comune la provincia la cap è il cap ma questa è la tabella già esistente quindi se state lavorando su una tabella ex novo non inserite di default questi tre cioè il cap si comunque il comune e la provincia perché andremo ad utilizzare queste due liste queste due tabelle per cui ci servirà l'id ma se come credo la maggior parte di voi andranno a lavorare su una tabella esistente per cui faccio vedere il foglio dati dove ci sono già tanti dati allora eliminiamo questi che fatti per prova allora in questo caso ovviamente non magari abbiamo 200 record non vogliamo certo andare a cambiare manualmente il comune con il suo id o io ho lasciato la provincia vuota di proposito ma vogliamo ovviamente fare in modo che lo faccia access per noi per cui lasciamo pure comune provincia per ora poi vedremo ma alla fine del video attraverso una query di aggiornamento come fare in modo che sia access a cambiare diciamo invece dei nomi a mettere i numeri allora torniamo nella struttura e andiamo ad inserirci sia l'id della provincia un campo numerico sia l'id del comune ed è sempre un campo numerico ora d'ora in avanti ovviamente attraverso la selezione i campi anzi facciamo una cosa però così sarà più facile li portiamo tutti su ecco qua andiamo in foglio dati quindi d'ora in avanti i campi della provincia del comune non li vedremo più qua ma vedremo dei numeri qua ma non è un problema perché ripeto quello che avevamo fatto precedentemente lo sostituire cioè sarà access attraverso una query di aggiornamento a sostituirlo non dovremmo fare noi manualmente il lavoro ok allora chiudiamo qui andiamo sulla nostra maschera o per lo meno sulla mia io qui ho il comune il cap non ho la provincia fa nulla ognuno poi avrà i suoi campi noi lavoriamo con questi allora innanzitutto eliminiamo questo campo comune il cap lo possiamo pure lasciare perché sarà comunque un testo non sarà una casella combinata ok iniziamo a inserire la casella combinata della provincia perché ricordate noi selezioneremo la provincia e poi nella seconda casella andremo a vedere solo i comuni inerenti che afferiscono quella provincia quindi iniziamo creandoci dando sui nostri controlli cliccando una casella combinata questa volta andremo ad utilizzare la creazione guidata quindi ricerca e valori per caso della combinata si qual è la casella la tabella che ci interessa e province andiamo avanti ci servono entrambi i campi per quelli selezioniamo entrambi e ordiniamo per alfabeticamente per provincia vedete a g a l dopodiché ovviamente è di default ma se non l'avete nascondiamo la colonna chiave perché non ci interessa vedere l'idea non interessa vedere la sigla andiamo avanti in questo caso andremo a memorizzare il valore nel campo quale campo id provincia cosicché memorizzandolo ogni cliente avrà il suo id provincia andiamo avanti questa qui è provincia la casella ok e clicchiamo su chiudi ok adesso formattiamo come si deve dimensione al più alto dopodiché questo lo facciamo uguale perfetto magari allunghiamo un attimo facciamo così ecco qua allora diamo a dargli il nome alla nostra casella combinata non casella combinata ma cb o provincia ok adesso cominciamo a vedere visualizziamo la maschera se io clicco vedete ho tutte le mie province perfetto andiamo avanti torniamo in visualizzazione struttura ora mi devo creare la casella combinata del comune ma come detto deve essere non posso prendere i dati direttamente dalla lista comuni perché devo controllare la provincia d'appartenenza quindi che cosa faccio vado a crearmi una query quindi vado su crea struttura query gli diamo la tabella dei comuni e gli diciamo che voglio list lì di comune il comune e lì di provincia il cap per ora non mi interessa dopodiché di provincia non voglio vederla non mi interessa ma nel criterio io gli vado a scrivere che voglio che mi fa vedere solo i comuni dove della provincia mostrata nella cb o provincia quindi maschere punto esclamativo clienti m perché io solo quella punto esclamativo quale campo cb o provincia ok se io adesso faccio e segui una query non c'è niente perché qui io sono in modalità struttura ma se io qui salvo vado in modalità maschera seleziono la provincia per esempio facciamo lecce perché la conosco bene ormai lo sapete facciamo lecce se io eseguo andiamo se me la fa eseguire andiamo così eseguo la query vedete mi da tutti i comuni della vi assicuro che questi lo sono i comuni della provincia di lecce ok quindi qua chiudiamola un attimo salviamo questa query col nome di comuni e fondamentalmente questa query sarà la base della nostra seconda casella combinata quindi torniamo sulla nostra maschera visualizzazione struttura andiamo ad inserire di nuovo una casella combinata vediamo la creazione guidata lasciamo sempre ricerca valori per casella combinata da un'altra tabella o query quindi andiamo avanti questa volta qui andremo a selezionare query abbiamo solo quella per lo meno io andiamo avanti mi servono tutti e due ok andiamo avanti e lì ordiniamo per ordine alfabetico del comune adesso non c'è un errore in realtà che cosa è successo essendo questa maschera in modalità struttura di fatto non c'è selezionata alcuna provincia per cui non sa che cosa mettere ma vi assicuro che funziona cosa andiamo a fare andiamo a un'altra cosa vedete qui non ho possibilità di nascondere l'id proprio del comune proprio perché è una query per cui lo nascondo semplicemente trascinando completamente a sinistra il campo id comune andiamo avanti dove lo vado a memorizzare nel campo id comune andiamo avanti cioè devo memorizzare il campo id comune e lo memorizzo in id comune andiamo avanti questa volta è comune il campo ok fine adesso diamo finesse alle proprietà andiamo subito a cambiare cibi o comune e andiamo a formattare allo stesso modo dimensione al più alto e al più largo e poi allineiamo a sinistra ok se salviamo visualizziamo la maschera vedete abbiamo solo i comuni relativi alla provincia di lecce ora se io però cambio livorno a me rimangono sempre gli stessi gli stessi ca e gli stessi paesi perché dobbiamo ovviamente inserire qualche linea di codice quindi nell'evento selezioniamo la casella combinata della provincia andiamo su evento su dopo aggiornamento tre puntini generatore di codice gli diciamo semplicemente appunto che quando io cambio provincia mi punto cibi o comune si deve ricaricare quindi cosa vuol dire che se io cambio provincia ricomincia da capo fondamentalmente andiamo a vedere se adesso funziona andiamo su visualizzazione maschera allora adesso io vedete io appena riaperto la maschera per cui adesso mi darà tutti i paesi della provincia di livorno ma se io cambio su lecce adesso ho i paesi che afferiscono alla provincia di lecce e posso selezionare quello che mi interessa ancora non state non date attenzione al capo perché ancora non ci abbiamo lavorato ma tutto questo non basta perché se io cambio record e vado avanti vedete non ho più nulla questo perché pur avendo il dato associato a quel cliente in archivio quel comune che io ho qui non fa parte della provincia che avevo selezionato quindi bisogna fare in modo che si aggiorni tutto anche quando cambia il record quindi come facciamo più complicato a dirlo che a farlo ragazzi vi assicuro selezioni andiamo in struttura selezioniamo le proprietà della maschera attenti che sia la maschera e non le caselle combinate su corrente quindi su corrente vuol dire ogni volta che io cambio record ok il generatore di codice andiamo di mettergli semplicemente lo stesso identico codice quindi quando anche sia quando cambio provincia ma sia anche quando cambio record tu fai un rica una ricarica del comune adesso andiamo a vedere allora visualizziamo la maschera ho lecce acquarica del capo se io vado avanti per dire agrigento posso mettere agrigento se io vado avanti se io torno indietro vedete rimangono quelli che c'erano prima non state a preoccuparvi vi ripeto se avete nel vostro data base già il comune e non lo vedete qui ricordatevi che questo non è più il campo del comune questo è il campo id comune quindi è tutto normale non state a preoccuparvi ok quindi questo funziona questo funziona andiamo ad occuparci ora del cap il cap è molto semplice in realtà rimane ovviamente il dato l'origine controllo il cap ma come andiamo ad inserirlo con di look up ma lo andremo ad inserire dopo l'aggiornamento del comune ok quindi che cosa andiamo a scrivere dopo aggiornamento 3 generatore di codice gli andremo a dire che il campo mi punto cap io metto sempre il mi davanti punto potete anche non metterlo ma così sono sicura di avere il nome del campo corretto quindi è uguale è un di look up abbiamo detto quindi di look up uguale apriamo parentesi no ho messo un uguale di troppo di look up apriamo parentesi apriamo virgolette cap dalla tabella e stiamo parlando adesso quindi cap virgola qual è la tabella lista comuni chi chiediamo le virgolette virgola quale devo usare vai a vedere l'id del comune uguale virgolette e controlla l'id che c'è nel mi cbo nella casella combinata del mi cbo comune e chiudi la parentesi ok la lascio un attimino così ecco qua potete scritto scrinshotarlo quindi ogni volta che io vado a cambiare il comune il campo cap deve essere quello che compare nella lista comuni t dove l'id di comune è uguale a quello che c'è appunto nel cbo comune spero di essere stata chiara andiamo a fare un po di prove salviamo visualizziamo la maschera ok adesso c'è ancora quello vecchio perché io non ho modificato andiamo a lecce che so vedete ha cambiato in 70 300 se io vado qui se io rimetto a grigento vedete ha cambiato 90 200 se io apro la lista dei comuni andiamo a trovarci aggrigento sono veramente tanti aggrigento dove sei gigi gigi oddio qui lo so se qui eccolo qui aggrigento vedete è 90 200 se io vado avanti rimetto in line 11 100 adesso se io metto roma o milano metto la città di milano vedete mi esce in automatico diciamo il cap generico 20 100 allora milano come roma ha qualcosa come 50 60 60 codici di avviamento postale andare a inserire tutti non so anche perché nel momento in cui inserisco milano comunque qui mi dava il primo record per cui la cosa migliore per come la vedo io 20 123 per esempio lo sistemiamo manualmente che perché non ci sono tantissime città che hanno più diciamo più più cap ovviamente nel momento in cui lo sistema manualmente se vado a prendere la che ho sistemato vediamo un po la mia tabella clienti eccolo qui vedete viene archiviato come quello che io ho modificato per cui rimane tranquillamente vedete che nel frattempo qui mi sta aggiornando tutto quanto adesso andiamo a inserirne uno nuovo anzi no prima un'altra cosa se io cambio qua andiamo con roma roma vedete qui mi si pulisce il campo bianco mi dà la possibilità di scegliere ma qui mi rimane quello vecchio quindi adesso con poche altre linee di codice vado a sistemare anche questa parte qui allora su dopo aggiornamento dell'id provincia oltre a far ricaricare il comune gli dirò anche che mi punto cap deve essere uguale a che cosa annulla ok è la stessa cosa similmente l'andremo a fare sul form carnet cioè quando cambia il record ma in questo caso ovviamente non andremo a dire che nulla altrimenti cancelleremo tutto il nostro lavoro semplicemente che si deve ricaricare anche il cap quindi mi punto cap punto requiri ok quindi dopo l'update della aggiornamento della provincia a zero quello che c'è scritto nel cap se invece cambio record cambiando comune mi deve ricaricare anche il cap adesso andiamo a vedere ok cambio la lecce metto lei qui le vedete in automatico mi ha cambiato se io metto livorno vedete mi ha ripulito entrambe le i campi diciamo quindi adesso ci metto qualcosa altrimenti ok quindi è per questo diciamo funziona perfettamente quindi se voi state lavorando con una tabella ex nova il tutorial finisce qui abbiamo quello che ci serviva è tutto archiviato nella tabella clienti t e quindi buon lavoro ma secondo detto invece presuppongo molti di voi lavoreranno su una tabella dove magari hanno già 100 200 clienti come aveva detto dobbiamo fare in modo di aggiornare tutti i i clienti vecchi diciamo i record vecchi allora torniamo un attimino sulla tabella allora di provincia facciamo così svuotiamo questo perché anzi no scusate voglio farvi vedere una cosa io inserisco un nuovo record ok tal detali la mia fantasia ormai rinomata per cui bla 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 vado a mettergli la provincia di alessandria acquitermi ho il mio cap perfetto salvo il mio record è apposto chiudiamo un attimino se io vado sulla tabella vedete non ho più alcun record qui ovviamente perché d'ora in avanti come vi ho detto non andremo più a implementa a scrivere nei campi comune o provincia quindi andiamo a crearci questa query di aggiornamento che ci permetterà di riempire tutti questi campi adesso io li svuoto un attimo giusto per farvi vedere come funziona ok allora non abbiamo niente nell'id provincia non abbiamo niente nella provincia qui non abbiamo niente nell'id comune ok allora andiamo a partiamo col comune per la con l'aggiornamento del comune quindi crea la struttura della query allora aggiungiamo la tabella clienti t e la tabella lista comuni ma attenti in automatico la relazione dell'id comune ma a noi in questo caso non serve la relazione ci serve collegare comune con comune ok allora cosa andiamo a fare adesso andiamo a inserire solo id comune dopo di che clicchiamo qui vedete quiri di aggiornamento e gli diciamo che l'id comune della tabella clienti t deve essere aggiornato per tutti i record lista comuni punto t punto id comune cosa gli abbiamo detto vedi il comune che c'è qua vallo a cercare qua e mettimi il numero nel campo id comune della tabella clienti t spero di essere stata chiara eseguiamo vedete il numero di righe che verranno aggiornate 7 se fai clic su sì non sarà possibile utilizzare il comando ok attenzione se non avete attivati warning non riceverete questo messaggio adesso poi faccio vedere eventualmente come attivarli clicchiamo su sì se io adesso vado ad aprire la mia tabella clienti vedete ho tutti i reili di comune tutto compilato adesso io ho 7 clienti se ne avesse 300 avreste lo stesso lo stesso effetto ok chiudiamo questa qui non ci serve di salvarla se volete salvare chiamata l'aggiornamento clienti come come volete quindi non io non la salvo vado a fare la stessa cosa con il campo id provincia che però attenzione non la qui non abbiamo mai messo la provincia se avete messa il criterio è lo stesso di prima solo che invece di di comune metterete di provincia se voi non avete mai inserito la provincia quindi avete solo dei campi vuoti dobbiamo giocare un pochino quindi andiamo a che allora chiudiamo questa andiamo di nuovo a crearci la query questa volta andremo a inserire ancora clienti t e lista comune ok andremo dobbiamo sistemare lì di provincia query di aggiornamento ok aggiorna a che cosa sempre lista comuni t ma questa volta id provincia quindi che cosa gli stiamo dicendo in realtà lì di comune l'abbiamo già sistemato per cui va benissimo lasciare questo gli stiamo dicendo vai a guardare lì di comune e mettici lì di provincia collegato ok adesso se io apro questa non questa scusate se io apro questa ok ho di nuovo sette record vediamo se me la fa eseguire anche con la tabella aperta se io a questo punto andiamo ad eseguire la query record che verranno aggiornati otto perché ne abbiamo aggiunto un altro continuiamo sì andiamo a vedere vedete tutti gli id della provincia sono stati inseriti quindi se avete 200 300 record automaticamente saranno tutti riempiti per cui non dovrete fare nulla manualmente il cap non c'è bisogno di fare una query di aggiornamento perché come abbiamo visto prima anche se inserito manualmente mantiene lo stesso l'archivio per cui a questo punto dopo aver fatto un bel backup della vostra tabella clienti con i vari comuni diamo visualizzazione struttura e andiamo ad eliminare comune e provincia che avevamo inizialmente non lì di occhio quindi elimina definitivamente sì e salviamo la query non ci serve più andiamo sui nostri clienti m vedete che pur avendo eliminato quello che noi avevamo inserito in realtà abbiamo tutto quanto ma forse conviene farlo vabbè in realtà è tutto per perché qui guardate un po mi sono appena accorta di una roba ma forse il capo che mi conveniva aggiornarlo va ricominciare no 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 no